Ciao ciao a tutti, io sono Stefano De Sando e sono stato invitato a ricordare il film che mi ha più colpito, il film nel quale sono stato un grande stimatore, il film nel quale intravedo dei segnali importanti, non so, mi è stato chiesto di fare questo ed è bello, è curioso perché quando ti dicono ma per eccellenza un film? Non lo so, te ne girano in mente talmente tanti che poi alla fine non sapresti da che parte iniziare. Allora togliendo tutti i caposaldi della mia conoscenza cinematografica, vi regalo invece un piccolo spaccato in un minuto di un grande film che trovo corroborante per alcuni motivi particolari, innanzitutto perché è un film che parla di una evasione e mai come in questi tempi l'evasione, quindi è qualcosa che ti porta al di fuori di una dimensione costrittiva e già qualcosa di magico. A me poi sono sempre piaciuti i film di evasione perché hanno un loro, hanno loro, ha un grande appeal sulla mia paura, quella di stare chiuso, stretto, io che sono molto aperto, quindi quei film che parlano di una situazione di costrizione che viene liberata dall'evasione o dal tentativo di evasione. E allora proprio per questo senso psicologico del film più bello che io vorrei condividere con voi e del quale per chi non l'avesse visto vorrei fare un sincero consiglio di prenderne visione. Si intitola Le ali della libertà in italiano, è un film credo del 1994, il titolo originale era The Shunshank Redemption, è un film per parlare dei protagonisti, lui è Tim Robin e Morgan Freeman. È un film bellissimo, che dire, è un film che ti accompagna perché è un film dotato di una grande tessitura drammaturgica, è un film che si basa non solo sulla grande bravura e sulla competenza che va dai protagonisti al regista, tutti i caratteristiche ci sono dentro, che parla di una storia meravigliosa, appunto una storia di evasione, ma poi compendiata, poi tutto quanto compendiato da un percorso così scientifico, così bello. E poi soprattutto perché in questa grande evasione si parla di uno dei più gravi problemi, a parte il coronavirus, uno dei gravi problemi di molte società, soprattutto della nostra, attuale, quelli dei famosi furbetti. furbetti, i furbetti che sono una razza sempre in espansione, la cui mamma è sempre incinta, i furbetti, gli evasori, i traffichini. E allora questo film sanzione in maniera perentoria con questa grande fuga e vince e sconfigge tutti questi rappresentanti della parte più becera e più malata della nostra società. Quindi il film, questo film di cui vi ho parlato, si intitola Le ali della libertà. Chi non l'avesse visto è pregato di prenderlo in coscienza. Ciao a tutti.